Vai a vedere l'occhiata, casolino. Bello. Il sedimento degli indiani. Il sedimento degli indiani. Perchè stai chieno e chieno? Tu pensi che se non viene chiudito i finestrini si s'affolgono? Ma la chiesa che stanno lì in cima non sentono i rotatori tutti di nuovo? No, no. No, no? No, no. E' bellissimo. E' bellissimo. la gente che ci sta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti